Prima giornata di sciopero domani per protestare contro i 26 licenziamenti annunciati dalla porta mobility dalle 14 protesta sotto la sede dell'autorità portuale organizzata dai sindacati. Sono oltre 500 le persone guarite dal covid nelle ultime 24 ore, un segnale chiaro per la discesa della curva anche nella nostra città dopo diversi giorni di ritardo rispetto alle medie nazionali. Giorni decisivi per il futuro del cantiere ex privilege, la marine goddess ha assoluta necessità di vendere per non perdere 6 milioni di euro con cui avveniva pagato la struttura. Tanta mobilitazione in città, tra cui una petizione avviata da Civitavecchia Ceper, di Renault al Biodigistore, una situazione spinosa che chiama la politica a recitare un ruolo importante. Prima vittoria nel 2022 per la Stemar 90, nel recupero di Cigold e Rossoneria hanno sconfitto il Valmontone per 74-62, bella prova per il francese Laurus, autore di 25 punti. Buonasera dal TRC Giornale da Raffaella Angeletti, prima giornata di sciopero domani delle tre complessivamente proclamate dalle organizzazioni sindacali per protestare contro i 26 licenziamenti annunciati dalla Port Mobility, la società che si occupa di svolgere una serie di servizi all'interno dello scalo marittimo Civitavecchiese. Nel pomeriggio è stata programmata una manifestazione di protesta che si terrà sotto la sede dell'autorità portuale, cui sindacati che chiedono anche il sostegno delle altre categorie. Ma a riguardo vediamo il servizio, sentiamo. Chiusa una vertenza, quella della GTC, se ne apre un'altra, quella di Port Mobility. Non sembra esserci pace nel porto di Civitavecchia, dove domani nel piazzale antistante la sede dell'autorità portuale avrà luogo un presidio in occasione del primo dei tre giorni di sciopero proclamati dalle organizzazioni sindacali. Tutte le sigle del comparto hanno infatti programmato la mobilitazione per protestare contro i 26 licenziamenti annunciati dalla società, che gestisce una serie di servizi all'interno del porto, tutti commissionati e pagati dall'autority, e che ha pagato negli ultimi due anni il crollo del traffico croceristico conseguente alla pandemia da Covid-19. Per le organizzazioni sindacali non è ammissibile, in un periodo di estrema difficoltà come quello che si sta vivendo, procedere a licenziamenti quando il porto ancora è lontano dal ritorno alla normalità e si hanno a disposizione ammortizzatori sociali utili a proteggere i lavoratori in attesa di tempi migliori. Secondo i sindacati la responsabilità sociale delle imprese deve costruire una cinta di protezione verso la comunità dei lavoratori operanti nel porto e non utilizzare i dati economici condizionati dalla pandemia per decisioni che impattano pesantemente sulle famiglie. Filt CGL, Fit CISL, Wheel Trasporti, USB, UGL e Fast Trasporti si appellano quindi a tutti coloro che potranno e vorranno portare la loro solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Pormobility in sciopero per salvare il proprio posto di lavoro, invitandoli a partecipare al presidio di domani che si terrà dalle 14 alle 17 davanti all'autorità portuale. Abbiamo bisogno, scrivono in una nota, che il territorio si unisca a sostegno della lotta per la difesa del diritto ad un lavoro sicuro e dignitoso. Accogliamo con estremo piacere la notizia della risoluzione dell'avvertenza GTC, una situazione complessa che si protraeva già da molti anni e che destava preoccupazione. Un plauso va fatto a tutti gli stakeholders che hanno pensato in primis a garantire l'occupazione e a far sì che 16 famiglie potessero vivere tranquillamente con una stabilità economica. A dichiararlo è il forum PD Porto che ora però punta i fari su un'altra situazione spinosa dello scalo locale. Stesso esito positivo ospichiamo abbia l'avvertenza Port Mobility, riprendono i Democrat, siamo vicini ai lavoratori e li sosterremo in tutti i modi. Port Mobility deve comprendere che non può continuare a spletare la sola via del licenziamento collettivo quando può avvalersi degli ammortizzatori sociali. È incomprensibile che 26 lavoratori siano licenziati nel nostro porto con scarse possibilità di trovare un'altra occupazione visto il periodo di crisi nel quale stiamo vivendo da due anni. Chiediamo di nuovo a gran voce che tutte le parti coinvolte facciano un passo in avanti al fine di salvaguardare la cosa più importante, l'occupazione. E in questo periodo di costante emergenza occupazionale e crisi locale il porto continua a essere al centro di provvedimenti inaccettabili posti in essere ai danni di lavoratori e lavoratrici. Questa volta è toccato a 26 lavoratori di Port Mobility per i quali è stato annunciato addirittura il licenziamento. A dichiararlo è potere al popolo che si dice solidale alle persone che stanno attraversando questo momento di difficoltà. Un provvedimento insopportabile, spiega Papp, figlio di un'arroganza amministrativa incapace di gestire le più elementari forme di confronto con le organizzazioni sindacali e di provvedere all'attivazione degli ammortizzatori sociali a tutela dei propri dipendenti. Ci sentiamo quindi di esprimere solidarietà e sostegno. La battaglia dei lavoratori di Port Mobility, la loro lotta è anche la nostra ed è per questo che una nostra delegazione sarà sempre presente alle tre iniziative organizzate nei prossimi giorni dalle organizzazioni sindacali. Boom di guariti da Covid-19 a Civitavecchia. Ad annunciarlo sono Asla Roma 4, Regione Lazio, nel consueto report giornaliero, la nostra città che scende ampiamente sotto il tetto dei mille attuali casi positivi anche se i contagiati continuano ad essere tanti. Ma sentiamo il servizio, vediamo. Una valanga di guariti, frutto anche di recuperi dei giorni scorsi che portano Civitavecchia sotto quota mille casi, ampiamente superata nel corso di questa quarta ondata del Covid-19. Si erano arrivati anche oltre 1.700, condizionati in modo particolare dalla grande contagiosità della variante Omicron. Nel consueto report della Regione Lazio e dell'Asla Roma 4 sono 505 le persone che sono guarite dal Covid, cifra che porta il conteggio totale dei contagiati sul territorio comunale a quota 814, numero che non si vedeva dal 9 gennaio scorso, quando era stato raggiunto con un andamento opposto all'attuale, ascendente, un trend che fa ben sperare e che si allinea con quello nazionale, che vede una fase discendente della curva dei contagi. Tanto che il Governo ha deciso che da domani si potrà tornare a girare senza mascherina all'aperto, salvo assembramenti, segnale concreto del miglioramento in atto. Non sono però ancora bassi i nuovi casi in città e quindi serve ancora la massima cautela. Ne sono annunciati 125 nelle ultime 24 ore, di meno rispetto agli oltre 200 di qualche giorno fa, ma comunque tanti. A beneficiare del calo nella curva contagi sono le scuole cittadine, dove da lunedì scorso sono entrate in vigore le nuove regole. Dalle elementari alle superiori, gli alunni vaccinati e guariti potranno tornare in presenza con mascherina FFP2 se si sanno registrati i casi nel gruppo classe. Solo i non vaccinati nella scuola secondaria andranno in DAD a partire dal secondo caso di contagio in classe. Inoltre, per far scattare la quarantena nelle scuole dell'infanzia e primarie, il numero di bimbi positivi in classe passa da 1 a 5. E poi c'è una novità per tutti i non vaccinati, la quarantena in caso di contatto stretto con un positivo passa da 10 a 5 giorni. I positivi diminuiscono e le glassi in DAD in sorveglianza calano, avvicinando una normalità che manca da tempo. Resta invece sotto pressione l'ospedale San Paolo, dove i 30 posti letto del reparto Covid restano ancora tutti occupati. E dopo il pronto soccorso ci sono pazienti positivi in attesa di essere ricovelati. Discreto successo ieri pomeriggio del primo giorno della cosiddetta vaccinazione libera, ovvero della possibilità da parte degli utenti interessati di poter ricevere la somministrazione del siero senza procedere alla prenotazione e recandosi direttamente presso un hub. Nell'hub vaccinale allestito al barco nord del porto di Civitavecchia, ad esempio, l'afflusso pomeridiano è stato maggiore rispetto ai giorni precedenti, con una prevalenza di soggetti giovani. I pomeriggi a vaccinazione libera proseguiranno anche oggi e nei prossimi giorni. A partire dalle 14, gli hub saranno ad accesso libero senza prenotazione fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere. Ciò per favorire un'ulteriore partecipazione alla campagna di vaccinazione, che nel Lazio ha comunque conosciuto e sta conoscendo numeri importanti. È stata infatti superata la quota di 13 milioni di vaccini complessivi somministrati e quella delle 3,6 milioni dosi di booster effettuate. Superato anche il 76% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 137 mila i bambini che hanno ricevuto la prima dose. Proprio quello relativo ai piccoli di età inferiore ai 12 anni rimane al momento il segmento che ha risposto meno agli appelli. Sono giorni decisivi, tanto per cambiare per il futuro del cantiere ex privilege e in virtù dell'annunciata decisione dell'autorità portuale di avviare la decadenza della concessione demaniale la società maltese proprietaria dei capannoni e la marine goddess del gruppo Royalton ha assoluta necessità di vendere se non vuol perdere tutti i 6 milioni di euro con i quali aveva pagato la struttura all'asta fallimentare del luglio 2018. In questi giorni le trattative sono diventate febbrili. Ma sentiamo. Un tempo c'era la settimana Incom. Il cinegiornale che nell'immediato dopoguerra veniva diffuso attraverso l'astentore a voce dello speaker nelle sale cinematografiche tra una proiezione di un film e un'altra. Adesso c'è la settimana ex privilege che continua dal suo punto di vista ad essere enigmistica. Il 31 gennaio scorso scadeva infatti il termine concesso dall'autorità portuale ai maltesi della Royalton per decidere una volta per tutte cosa fare del cantiere pena la decadenza dalla concessione. Da allora nulla si è più saputo se non che a quanto sembra la società maltese che acquisì il cantiere nel luglio del 2018 in un'asta fallimentare attraverso la sua consociata Marine Goddess avrebbe chiesto un mese di proroga per ultimare le trattative di vendita in corso la più importante delle quali sarebbe in atto con la Tancoa Yachts La società genovese tra l'altro è stata protagonista di un lungo articolo in uno dei magazine maggiormente autorevoli sul fronte dello shipping nel quale viene definita la stella nascente nello yachting di lusso a fronte delle imbarcazioni da sogno vendute ultimamente e delle prenotazioni già ricevute per realizzarne altre ma non c'è solo Tancoa tra le società produttrici di mega yacht che ambisce a subentrare alla Royalton il problema è che i tempi sono ormai ridotti all'osso se è vero ed è vero che l'autorità portuale vuole definitivamente avviare l'iter di decadenza della concessione la società maltese ha pochissimi giorni di tempo per vendere e per poter almeno rientrare di qualcosa rispetto agli oltre 6 milioni di euro spesi per acquistare i capannoni all'asta parlamentare di luglio 2018 ciò perché il provvedimento di decadenza avrebbe automaticamente l'effetto di farle perdere il bene che diventerebbe di proprietà del demanio marittimo Royalton deve quindi necessariamente vendere e deve farlo in tempi strettissimi e il silenzio improvvisamente calato sulla questione potrebbe stare a significare che si è entrato nella fase decisiva di una delle diverse trattative in corso l'Enel ha presentato un'istanza all'autorità portuale per avere l'autorizzazione e interventi di modifica strutturale del porticciolo legato alla costruzione della centrale di Torre Valdaliga Nord tali interventi sarebbero necessari e funzionali a un impianto di allevamento ittico in gabbie galleggianti l'allarme viene lanciato dal partito democratico in particolare dal gruppo consigliare e dalla segreteria appare del tutto incongruente si legge nella nota che l'Enel chieda di svolgere lavori su un'opera che dovrebbe abbandonare tra poco più di due anni per cederla in sub concessione a una società di produzione ittica che pensa di realizzare un impianto di durata come minimo ventennale la comunità deve difendere la frasca dichiarata monumento naturale e prossimamente oggetto di positivi interventi di riqualificazione l'amministrazione comunale deve con tempestività attivare tutti i canali con una opposizione nel merito anche di interlocuzione politica e istituzionale prendiamo atto del fatto che Enel e la società agricola ittica abbia presentato congiuntamente istanza per l'ampliamento delle attività concesse alla stessa Enel nel porticciolo a suo tempo utilizzato per la costruzione della centrale termoelettrica e il subingresso dell'agricola ittica nella gestione lo dichiara la lista tedesco che approfondisce la situazione relativa della frasca deve ritornare alla città risponde la lista tedesco auspichiamo che sia destinato a scopi turistico ricettivi e non a iniziative che l'amministrazione ha già formalmente bocciato la città tutta si espressa in tal senso il sindaco tedesco il vice sindaco Magliani si sono attivati chiedendo tempestivamente all'ufficio avvocatura osservazioni a supporto di una formale opposizione che scongiuri la realizzazione di questo progetto nel contempo tutti facciano la loro parte e anche Civitavecchia aderirà la manifestazione nazionale di sabato a tutto gas ma nella direzione sbagliata contro le bufale fossili nucleari è previsto anche un flash mob nella nostra città che si svolgerà proprio sabato alle 11 in via Siligato 32 all'altezza della sede dell'azienda Molinari è anche previsto un servizio di navetta dalla stazione di Civitavecchia per recarsi a Roma per la manifestazione nazionale tante le associazioni locali che hanno già dato adesione al sit-in tanti contatti lettere e iniziative diverse tra le quali una petizione popolare avviata dall'associazione Civitavecchia c'è la città nel suo complesso continua a mobilitarsi contro il via libera arrivato per la realizzazione di un biodigitor che dovrebbe incamerare ogni anno 120.000 tonnellate di rifiuti organici al di là delle dichiarazioni dell'assessore regionale competente che ha parlato di scelta condotta esclusivamente a livello tecnico la politica è chiamata invece a recitare un ruolo importante nella vicenda vediamo 120.000 tonnellate a Civitavecchia 90.000 a Frosinone 84.000 a Danagni e il problema dello smaltimento dei rifiuti organici della capitale è in parte risolto ma su quello che appare niente altro che un cadò del governatore Zingaretti al neosindaco di Roma Gualtieri per fargli iniziare il mandato sollevato dal dover trovarsi di fronte a breve e medio termine nuove emergenze rifiuti si scatena la protesta dei territori interessati questi impianti sovradimensionati rispetto alla quantità dell'organico prodotto in loco hanno portato alla nascita di comitati spontanei e alla feroce opposizione di molte forze politiche e ciò è giusto sottolinearlo nonostante i biodigestori siano impianti in qualche modo graditi anche al cosiddetto mondo ambientalista soprattutto perché le cosiddette ricadute ambientali fatte eccezione per quelle derivanti dal trasporto dei rifiuti sarebbero praticamente nulle a fronte degli impianti realizzati secondo le tecnologie più avanzate peraltro il no ai biodigestori non viene pronunciato solo nel Lazio ad esempio anche nel Chianti dove si vuole realizzare un impianto da 160.000 tonnellate al servizio di Firenze e nel Casertano dove è stata programmata una struttura in grado di movimentare 110.000 tonnellate insomma il discorso è controverso e la battaglia si preannuncia particolarmente lunga a Civitarecchia in particolare al di là dell'opposizione manifestata da Comune Asal e dalle forze politiche è partita una raccolta di firme promossa dall'Associazione Civitavecchia c'è peraltro le dichiarazioni dell'assessore regionale competente Valeriani che ha attribuito la decisione al solo livello tecnico e non alle volontà politiche non hanno fatto altro che alimentare ulteriore dissenso rispetto al progetto presentato dalla società Ambienta Lazio come andrà a finire difficile a dirsi la sensazione che al di là delle dichiarazioni dell'assessore Valeriani il livello politico possa e sia assolutamente in grado di modificare quanto stabilito in sede di conferenza di servizi i prossimi giorni ci diranno se questa sensazione si sarà o meno rivelata esatta chiuso da oggi e fino a sabato per complessive tre giornate lo storico istituto Baccelli torna infatti lì in cubo delle fughe di gas in città dopo quelle che si sono registrate nell'ultimo periodo in particolare tra via Novazzi e via Calisse e in due palazzini di Saliborio in via Castagnola questa volta è toccato al complesso scolastico che si estende tra via Leopoli e via Rutilio Namaziano che comprende due istituti cittadini lo stendale il Calamatta il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato ieri sera l'ordinanza di chiusura la misura si è resa necessaria a causa di una fuga di gas dopo la comunicazione di città metropolitana competente per gli istituti del programma di lavori da effettuare all'interno degli ambienti scolastici è stata quindi assunta la decisione per evidenti ragioni di sicurezza come detto quindi due istituti resteranno pertanto chiusi fino a sabato la formalizzazione dell'istituzione di una zona logistica semplificata è un importantissimo elemento di novità per lo sviluppo e la crescita del tessuto economico regionale e dell'intero centro Italia non ci stanchiamo di ribadirlo fare rete è fondamentale la sfida è cruciale per questo gli orizzonti devono avere una comune visione è quanto si legge in una nota del segretario generale della FITCISL del Lazio Marino Masucci parliamo di un'intesa per la costruzione di un efficiente ecosistema logistico industriale prosegue Masucci facilitato dallo sviluppo della portualità del Lazio anche alla luce del riconoscimento di Civitavecchia quale Porto Cor un complesso organico e funzionale attraverso cui favorire il sistema imprenditoriale che implementi la vocazione multidisciplinare dei territori garantendo la crescita di un'occupazione di qualità in cui salute sicurezza e sostenibilità dovranno rappresentare gli elementi centrali intanto si è svolta questa mattina anche se in tono diverso rispetto al solito a causa dell'emergenza covid la cerimonia per la giornata del ricordo dedicata ai martiri delle foibe all'esodo degli italiani di Istria fiume ed almazia dopo la fine della seconda guerra mondiale l'evento come detto di carattere simbolico avvisto al parco martiri delle foibe conosciuto anche come un liveto il sindaco Ernesto Tedesco il comandante del cesiva generale Claudio Minghetti e il presidente del consiglio comunale Emanuele Amari che hanno depositato a nome di tutta la città di Civitavecchia una corona presso il monumento all'ingresso del parco stesso come ha scritto qualcuno l'amore più che il dolore tiene viva la memoria dichiara il sindaco Ernesto Tedesco ed è con questo spirito che vogliamo ricordare il dramma dell'esodo e la tragedia delle foibe dolore certo per quelle vittime per quegli esuli che furono costretti ad abbandonare le loro terre per restare italiani ma anche celebrare l'amore di chi accolse questi nostri fratelli come seppe fare la nostra città finalmente ritorna dopo la forzata sospensione a causa dei limiti legati all'emergenza epidemiologica dello scorso anno l'appuntamento con due cuore e un biglietto l'iniziativa della proloco cittadina per celebrare la festa di San Valentino da domani a lunedì tutte le coppie innamorate potranno visitare l'area archeologica delle terme taurine acquistando un solo biglietto per due si ricorda che per entrare è obbligatorio il Green Pass rafforzato per informazioni telefonare al numero 338 32 79798 Federcaccia comunica che la riconsegna dei tesserini e segna catture ITC per acque interne della stagione 2020-2021 è stata posticipata al 28 febbraio coloro i quali non rispetteranno la scadenza saranno passibili di sanzione amministrativa è possibile dunque recarsi alla sezione comunale di Federcaccia in via frangipane 6 per la riconsegna dello stesso e per richiedere il nuovo entro e non oltre tale data e proseguiamo con lo sport iniziando dal basket prima vittoria nel 2022 per la Stemar 90 che al Palaricucci ha ragione di Valmontone per 67 a 54 nel recupero di Cigold partenza bruciante dei rossoneri e in particolar modo di Larousse che realizza subito 10 punti nel primo quarto il quintetto di Ferdinando De Maria accumula 8 punti di vantaggio che difenderà fino all'ultimo quarto quando con uno strappo decisivo chiude la pratica di una sfida non semplice ma nella quale gli avversari non sono riusciti a fare mai il passo decisivo come detto scatenato Larousse autore di 25 punti e ottime idee per il gioco Civitavichese molto ispirato e in fiducia anche Bezzi andato negli spogliatoi con 12 punti pallannuoto sono giorni intensi quelli che sta vivendo la Coser dopo tanta attesa andata oltre rispetto agli anni scorsi domenica prossima la squadra allenata da Daniele Lisi inizierà la sua avventura in Serie A2 volando alla volta di Catania per affrontare il Torre del Grifo grandi le aspettative per il gruppo capitanato da Venere Tortore per un progetto quello del club giallo blu che inizia a entrare nel vivo ma ascoltiamo l'intervista vediamo Daniele Lisi si avvicina alla partenza del campionato di Serie A2 per quanto è arrivata la Coser la prima gara sarà a Catania contro il Torre del Grifo sicuramente un ambiente particolare un ambiente speciale quello di Catania perché poi c'è l'Orizzonte Catania che sappiamo una squadra di grandi successi in Italia si andiamo praticamente nel tempio della pallannuoto femminile insomma Catania nel corso degli anni è rinnovata come punto di riferimento all'Orizzonte però comunque sia ci sono tante squadre come ecco la Briz la finalista l'anno scorso per lo spareggio per la 1 e Torre del Grifo che sono tantissimi anni che militano nel campionato di Serie A2 quindi per fare questo con continuità c'è un certo lavoro a monte una certa come dire una certa qualità ecco questo non non dobbiamo nasconderlo certo il partiamo dalla quinta io speravo insomma in un momento normale non questo del del covid arrivavamo alla quinta partita di campionato con dei bagagli dei partiti sulle spalle che ci avrebbero permesso di trovare la nostra continuità di trovare il nostro equilibrio andare subito a bomba così a Catania è un bel banco di prova le ragazze naturalmente sono tranquille nell'ultimo periodo si siamo allenati benissimo qui allo stadio del nuoto anche perché trovare la continuità degli allenamenti in una vasca che ti permette di fare degli allenamenti consoni al campionato di Serie A ci permette di affrontare le partite in un determinato modo e di raggiungere naturalmente il prima possibile il nostro primo obiettivo che è poi un obiettivo naturalmente della città perché la squadra è della città che è quello della permanenza della Serie A Atletica allo stadio Paolo Rossi di Roma va in scena la prima prova del campionato regionale Lanci e arrivano subito grandi soddisfazioni per la Tirreno Atletica il tecnico Mauro Leoni plurimedagliato tricolore ormai una conferma sodata nel team Civitavecchiese una giornata che ha messo a segno due risultati importanti grazie al minimo per i campionati italiani dell'allieva Martina Petri con il giavellotto da 600 grammi attrezzo della categoria assoluta con la misura di 34,5 e l'ultima prestazione della senior Germana Raponi alla prova del lancio del disco con 43,49 metri che sfodera subito una misura importante a pochi centimetri dal minimo per gli italiani assoluti che si terranno allo stadio olimpico a giugno ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito ma continuati comunque a seguirci nei nostri canali social che sono Youtube Facebook ed Instagram naturalmente al nostro sito www.trcgiornale.it non mi resta dunque che augurarvi un buon proseguimento di serata e naturalmente di programmi arrivederci www.trcgiornale.it 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 www.trcgiornale.it